Musica Cigioli belligeranti bentornati qui dal vostro Tempest con la Kaiser Dax Nel scorso episodio ci eravamo lasciati con il Justify pronti per attaccare il New England Ed è quello che adesso andiamo a fare Mettiamo Speed 4 perché non so quali saranno i risultati di una guerra praticamente su tutti i fronti Allora New England vediamo il generale chi è lui chi è il nostro uomo È lui vai vai il push deve avvenire su due fronti Qua e qua andiamo sui motori oddio li stiamo massacrando Anche se li chiamano in allea la stendano infatti già La stendano e manco ho iniziato a picchiare Molto bene Ma tanto io sto producendo carrier fighter e manco me ne sono accorto Oddio 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 Ma si può togliere il fatto che siano carrier Ma che ce ne frega Ma si teniamo lì carrier fighter va bene Siamo contro lì A non siamo niente di carrier dare Qua mi interessa semplicemente prendere Vancouver E pushare dove è possibile Qua ho i dubbi che voi spingete Spingono Loro spingono mio signore Come spingono Bene Andiamo a 5 Andiamo a 5 perché qua siamo troppo forti Qui siamo davvero troppo forti Troppo forti Andiamo andiamo Pushare pushare Chi sono le major? Il Canada? No vabbè se capitolo il Canada finisce la guerra Mamma come dovete correre Allora capitolo il Canada ci prendiamo Ci mangiamo tutto Ci mangiamo tutto se capitolo il Canada Volare Subito Ma immediatamente allora Ma certo che si E' morto il Kaiser Eh E beh che era già collassato Era già collassato Destroy Jim Crow Andiamo avanti con la ricostruzione La strada verso la rivoluzione Ah Prendiamo Boston Avanziamo a tutta birra Vedo già Li vedo già capitolati Bene guarda Che massacro Però qua ti fai saccare Non va bene Adesso la riapriamo La riapriamo The Seconds of the National Revolutionary Republic Pushiamo Spingere In New England è morto Ottimo Dentro a Montreal Dentro le Clerc Questi sono già Sono già capitolati eh Mandro Montreal Dove hanno la capitale? Ad Halifax Parigi contro Mosca Attenzione Attenzione In Europa vanno per la Battle Royale In Europa vanno per la Battle Royale Mio signore Mentre qua ci mangiamo qualsiasi cosa Andiamo qua a destra Allunghiamo il fronte Forza Ripresa Montreal Muovetevi che ho bisogno Di prendere le altre capitali Tu Se te la senti buona Attacchiamo dappertutto Certo così Assolutamente Assolutamente Adesso Andiamo a picchiare I rimanenti E' l'unica Major E' l'unica Malone E' l'unica Major ragazzi Vi bisogna essere veloci Bisogna essere velocissimi Perché ho paura che qualcun altro Lo diventi nel frattempo Vai vai Spinge 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 A tutta birra A tutta birra Vai 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 Prendete i victory point Pusciamo dappertutto Ah ma come si spinge Mamma che divisioni ragazzi Mamma che America C'è i generali che sono fortissimi Le divisioni che sono tutte skillate C'è più di questo Onestamente non so Cosa 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 in più si voglia Cosa in più si voglia Onestamente di questo Non lo so Dai che li tiriamo subito giù In una Blitzkrieg clamorosa Kingdom of Canada è vicino Molto bene Dai Andiamo ad Halifax Presa Federicton Pushare Spingere Oh qua sto giro 4 luglio lo possiamo festeggiare bene Per la prima volta Madonna Aspetta che prima La disintegro sta divisione Così non mi rompono le balle Poi torno indietro E picchio Halifax Bene Van giù Prendo il cane Da van giù Prendo il cane Da prendo Halifax Dai 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 Si ha preso tutto Quindi Dai Su Su La strada Toward the revolution Dai No the next step Homes for the people Dai Naggia a te The train union Andiamo coi treni I treni della rivoluzione Mio signora Vai Vai Halifax presa Capitola no? Non ancora Naggia Uccidili Prossima capitale qual è? Oddio qua non c'è più niente da prendere Lanziamo dove possiamo Io non è che vedo victory point Battelabur Aspeti victory point mio signore Non è che Allora qua c'è l'altra capitale Qui c'è l'altra capitale Attacchiamo 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 la capitale Forza Prendiamo Ottimo Ottimo A breve si dovrebbe triggerare l'evento per openheimer anche Oddio ma io stavo reclutando Ecco perché Ok vabbè Altre dizioni fresche A quale la mola Oddio Deve arrivare fino alla sotto No che noia Vabbè andiamo No a canna da 99 98 Naggia che ecco Puscia Oddio che massacro Dobbiamo massacrati completamente Andiamo a più time Qua è una città qualcosa Non è un victory point Non è che è Non è che victory point Me li posso inventare Metti qua la front line Ci tocca arrivare a San John Queste le mandi al volo qua Perché c'è da chiudere anche lì Forza Canna 99 Se riprendo qualche altro tile è finita Forza La wild ride Mio signore La wild ride Tanto che possiamo continuare A ricostruire Quello che va ricostruita Che offer pistol Se non ci sono altre measure Io mi prendo tutto Mi mangio proprio tutto Anche a video Proprio niente Finita Yes Grazie ragazzi Ah ah Forza Ferrari Allora Noi ci prendiamo Senza ne sapereggere Il Canada Proprio le priorità Sono il Canada Il New England Assolutamente Ci prendiamo La flotta Del Canada Non tutta Però possiamo prenderla Ne prendiamo una parte Con le screen Ok 2500 punti Ok Fino a qui va bene E ci siamo Demand Ok Poi Del resto Che possiamo prendere Portogallo Sardegna Eli Alaska 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 Assolutamente Ma assolutamente Alaska Ma presa Dominio Alaska Select all Submit Bene Poi ci dobbiamo Prendere del Canada La select all Della flotta L'Alaska I territori Select all Anche qua Molto bene E Mi pare che non c'è più niente Da prendere Perché il Canada Ha mangiato Una West Indies Select all Sì Demand Submit Ce l'ho ai punti Per fare quello C'ho punti per fare Quello che voglio Non ha capito un bel niente Mi annetto anche L'Australasia L'Ordine di Francia Lo pappetizziamo Vabbè no ma Faccio select all Sì sì Non possono prendere niente Ho fatto tutto il war score Ho fatto tutto il war score Senza che si fanno Vabbè Portogallo Ok Lo lasciamo stare Non mi interessa Dominio di Delhi Vabbè L'hanno preso l'oro Malta Non mi interessa C'è altre navi da prendere Sì Le prendiamo Qua ci sono Ex navi americane Quindi le prendiamo Ci sono navi francesi E le prendiamo Altre navi E le prendiamo La Sardegna Ci prendiamo la Sassaria E la Olbia Vabbè a questo punto Ci finiamo di prendere Tutta la flotta Per me La pace è questa Voglio vedere la Voglio vedere la Megaflo Madonna Raga ho paura Di quante navi Mi sono mangiato Madonna Euroflotta 500 navi Yes guys Forza ragazzi Oh Adesso arriveranno Sicuramente Triggereranno Adesso sicuramente Gli eventi Per Per andare A mangiare Altra gente Adesso noi Potremmo Andare a picchiare Dove conta Allora Noi dov'è che abbiamo Territori Qua nelle West Indies Molto bene Abbiamo territori Nelle West Indies America is Ufficially Liberated Direi che a questo punto Possiamo stare un attimo Fermi Allora The fate of Canada Canada e Quebec Li splittiamo Mi piace Le West Indies Friendly government L'Australasia Le separiamo Papua Nuova Guidea Le rilasciamo La Senegambia La rilasciamo La Tunisia La rilasciamo L'Algeria La rilasciamo Il Guadai Lo rilasciamo The fate of Mali Lo rilasciamo La Mauritania La rilasciamo La Guinea La rilasciamo Il Mossiland Lo rilasciamo E rilasciamo anche Il Niger Molto bene Ecco sono tutti i nostri Amichetti del cuore Molto bene Molto bene Molto bene Molto molto bene Qua abbiamo finito ancora Abbiamo finito di picchiare Ma andiamo tutto l'esercito qua Solidarity forever Come in uno americano Homes for the people Reconstruction is over Forza Continuiamo a costruire Anche se Finita la campagna Ragazzi Due episodi Prossimo episodio Mi sa che mi sblocco Il war goal Su tutti quelli del Sud America E facciamo la wild ride In Sud America E sto aspettando Che si triggera l'evento Per Openheimer Aspettando che si triggera l'evento Per il Big Daddy Madonna quanta roba si poteva fare Presca la quantità di roba Che si può fare Allora Parti Guarda lì Bene 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 Aspettiamo che si triggera Openheimer Volebbe essere a breve L'evento in teoria Se non ho sbagliato Allora Visto che io sono una persona Seria Trasparente Io preparo Le operazioni Per attaccare la Colombia Ma proprio te lo dico Con grande sincerità Istituzionale Facciamo gli sbarchi Proprio te lo dico Con grande sincerità Facciamo gli sbarchi Mio signore Prepariamo Gli eurosbarchi Prepariamo gli eurosbarchi Per la Colombia E poi Con la low diploma Mi consento di prendermi war goal Così almeno ci sbrighiamo A picchiare Tutto il Sud America Prima possibile No in Europa Non ci vado Anche perché Aserea Ho detto che la farò durare Sulla decima di episodi Quindi ci fermeremo al decimo Che sarà il prossimo Caruta Vienna Quindi vuol dire che si stanno finendo di ammazzare Si stanno finendo di ammazzare La flotta Formata da 500 navi La mandiamo qua Anche perché È abbastanza clamorosa come nave Come flotta Dentro di tutto La hood La flotta Ragazzi Ricordatevi Nelle base conference Di prendervi la flotta Sono importantissime Sono importantissime Salvadorian Is our puppet Ok Dobbiamo splittare Perché sono troppe 500 navi in una E ci stanno Ovvio Allora Le daremo l'idea Di fare questo servizio Qua Alle nostre divisioni Da 40 Le diamo l'ordine Di venire qua Pronti per Un viaggio in Sud America Bello fresco Il justify Glielo faccio al mano Contro il Brasile Mentre la Colombia Quanto ci vuole giustificare 180 giorni Andiamo Vogliamo Tanto si fanno subito In caso Comunque me lo prendo con Me lo prendo con i comandi In war goal Così Sto aspettando l'evento Di openamerio Ragazzi Che dovrebbe arrivare Veramente a breve Allora Reconstruction in over A New America Forza 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 A New America Ottimo Keep pushing La fluid in teoria Non ci dovrebbe essere Niente Infatti non ci può essere niente Ok Su 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 Ma comunque Lo sbarco è pronto Direi di sì Lo sbarco è pronto ovunque Mio signore Lo sbarco è pronto Ovunque Ok Ora questi Sono nostro Puppet Sì Il cazzo Che è tenuto Dalla Francia Allora Mi consenta Abbiamo fatto la compagnia Apposta Guardali Si costruisce bene Che può essere Vai 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 T'è la gomma Me ne prendo un bel po' Da parte Così non mi rompe le palle dopo Molto bene Ma sì perché sto a fare Eri come un pazzo Anzi potrei iniziare A fare i carri In realtà Potrei iniziare Effettivamente A fare i carri Ah no Devo finire di cercare Artiglieria Niente Niente Cazzata Cazzata Continuo a fare Aeri Vai vai Continuo a fare Aeri Mio signore A New America Forza A long long time ago Allora Rebuilder in New England Music make me smile Olè I cannoni nuovi In teoria Adesso manca solo a fare Solo questa Solo fare la radio nuova Ma Ci vorrei troppo I carri Voglio iniziare Vorrei Dico vorrei Iniziare a produrli Tipo subito Production Allora qua sicuramente Cambi la L'artiglieria Mettiamo a fare Le meccanizzate Giusto Giusto Ci vanno a fare Le meccanizzate E gli metti 20 fabbriche L'improvo di medium Tank chassis Ci metti Medium armament Così Le torrette Le radio Gli spammi Le solite Mascicate Mi sta volando Il mouse Ok le machine guns Non possiamo metterne troppe E allora ci Rebuti Qualcun di posso mettere Due radio Vabbè Mettici lo small cannon Engine Che arriva a 8 di speed Breakthrough Cosa me lo dà Lui Diretti Ho soft attack 44 Della specie di sherman Va bene Va Vai A posto Abbiamo anche il template Abbiamo anche il template Tanto qua io sto aspettando Openheimer Tanto posso iniziare a fare focus Loro Purtroppo per openheimer Bisogna Bisogna aspettare un po' Ecco ci sono ovviamente Le varie Le varie Le varie Le varie Le varie Rivoluzioni Perché rompono le palle Non ci posso andare Posso fare qualcosa Di tutto questo Questo Medium tank Production cost Meno 10 Soft attack Relability E li sostituiamo con Save as new Save Benissimo Voilà E anche questo è sistemato Mio signore Anche questo è sistemato Molto bene Molto molto bene Allora Order restored in Guatemala Allora finiamo il rebuild in New England Siamo pieni di bonus Su tutto Siamo pieni di bonus letteralmente su tutto Mio signore Non ci manca Nulla Assolutamente nulla Forza Forza Black legend Losser support Anche perché in teoria Non soffri di tutti Black legend Terrorismo Io le decisioni le ho fatte Non è che posso farci altro Ai 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 Alha il scott Ok Facciamo Votermine Zergeri Cercare questo In vista di openheimer Va bene Se vedete 20 minuti In questo episodio è tutto L'evento di openheimer Veramente dovrebbe mancare poco Purtroppo Abbiamo finito tardi la guerra civile Per questo che Ci vuole tempo Comunque vi ringrazio di stare con noi Allora il prossimo episodio Invadiamo tutto Il sudamerica Penso che Userò la Come si chiama La console command Per potermi dare il Il War goal Comunque Qua la tempesta è tutto Noi ci vediamo per il prossimo E ultimo episodio Di questa campagna Qua la tempesta è tutto Buongiorno a tutti Ciao ragazzi Ciao ragazzi